Questo triangolo, andiamo a trovare Leonardo Manera, che te lo sfaccio sto cosa. Siccome Mario Zucca ha parlato di vita, e anch'io sono un esperto di vita, avendo frequentato il seminario, quindi conosco tutti. Mi fa molto piacere, lo sospettavo, devo dire. Volevo dire una parabolina di quella che ho imparato in seminario, che scrivevo io stesso, così diamo anche una nota così di vita intensa alla serata. Guarda, mi sto commovendo con questo... Allora, devo tenere io il triangolo. Lo dico già con la voce quasi da seminarista. Vilo a quella telecamera, perché quella piace a me, che dopo se me la presti, che c'è una stasera, una seratina. Viveva! Viveva in un villaggio un uomo che aveva una figliuola molto bella, molto ambita, molto corretteggiata da tutti i giovani del paese. Ma ella, nonostante le tentazioni, voleva arrivare veregine al matrimonio. Perciò si sposò all'età di 15 anni. Perciò si sposò all'età di 15 anni. Perciò si sposò all'età di 15 anni.